Come si scrive una lettera di presentazione? Come fai a trovare nuovi clienti? Usi i social? Pubblichi il buongiorno con i gattini e i cagnolini? Spendi 10 euro al giorno con Google AdWords? Oppure mandi email di presentazione a raffica senza mai avere una risposta? Mi chiamo Salvo Scovazzo e sono un imprenditore di professione. L'imprenditore nel campo NGC non è la persona che guida la Mercedes più ore di un altro. L'imprenditore è la persona che in azienda sa come trovare nuovi clienti, questo anche per altri settori. Se hai visto tutti i miei video su YouTube avrai capito che sono specializzato in marketing per NGC. Se stai guardando questo video adesso è perché vuoi assolutamente capire come si scrive una lettera di presentazione efficace. Mi piacerebbe leggere cosa scrivi tu ai tuoi potenziali clienti. Fino a 6-7 anni fa anche io forse scrivevo come te. Immagino che nel migliore dei casi ti presenterai dicendo egregio direttore, porgo la sua illustrissima attenzione, la presentazione della mia grandissima azienda, siamo aperti da circa 20 anni, la nostra sede conta 10 dipendenti, abbiamo 10 auto meravigliose, tutte nuove, tutte nere, tutte pulite e così via. Poi ci aggiungi magari foto varie e cazzate per allungare il brodo e più ovviamente tutta la lista dei servizi che offri perché secondo te più ne metti e meglio è. Qualcuno ha, non mi ricordo chi, ci ha detto proprio che più servizi offriamo maggiore sarà la probabilità che un'azienda ci veda come una grande azienda, ma non è vero perché tu dici e beh è logica se faccio tante cose se ne so fare tante perché sono più intelligente e strutturato. Beh diciamo che in realtà non è proprio così. Allora quindi la tua lettera si concluderà con dei saluti e i tuoi recapiti. E-mail, sito internet, numero di telefono e basta. Se questo tipo di presentazione ti ha portato dei risultati e te ne sta portando ancora oggi, continua così, non sarò io di certo a fermarti, anzi. Se invece ti sei reso conto che qualcosa che non va c'è, qualcosa non si smuove, se devi mandare mille presentazioni per fissare un colloquio, un appuntamento e già sarebbe un buon risultato, forse è il caso che trovi un modo per far girare meglio la tua azienda. Se vuoi essere il primo nella tua zona, se hai bisogno di scavalcare una società che da tempo ti sta facendo le scarpe, io ti offro la possibilità di farlo imparando a scrivere una lettera di presentazione con le palle. Devi capire che i tempi sono cambiati, quindi non farlo solo per te, farlo per la tua famiglia, prenditi una rivincita su tutti quelli che non hanno creduto in te. Ho creato un corso, lo trovi sul mio sito scovazzo.it, alla sezione video premium. Il corso si intitola Come scrivere una lettera di presentazione nel 2020. Anch'io come te sono un NCC. Dal 2007 a oggi ho fatto crescere la mia azienda diventando il leader nella mia zona. Ho scavalcato, in termini di fatturato, aziende più grandi della mia. E quello che insegno è solo quello che ho fatto e che ha funzionato. Dare dei dati statistici non è il mio forte, però due numeri te li voglio dare lo stesso. Nel 2007 mi presentavo con le classiche lettere di presentazione. Risultato zero nuovi clienti. Nel 2015 ho creato le mie prime nuove lettere di presentazione poco efficaci. 100 lettere inviate, zero nuovi clienti. Nel 2019 ho scritto e inviato, nel corso poi ti spiego anche come, 65 lettere. Risultato 41 contratti con aziende che usano NCC. È ovvio che solo la lettera di presentazione non basta per farti chiudere il contratto. Nel corso approfondisco tutto dettagliatamente. Lascio a te la decisione. Vuoi rimanere dove sei o vuoi fare il salto di qualità? Scovazzo.it, video premium.